adesso portiamo avanti la puntata dai mettiamole a super velocità qui c'è un qualcosa di puzzolente che qualcuno dovrà che spiterino che appartamento schifoso vediamo se riesco vai a pulire sto schifo vai qui questa avrà anche fame che è successo vabbè lamentati con il padrone di casa per lo schifo che c'è non mi interessa che sono le sei dal mattino ma se deve venire qui a pulire quell'altro russa russa scoregia alla scorsa puntata praticamente non gli ho fatto usare il computer a tutti e due perché praticamente c'era una sorta di bug che come utilizzavano i computer il videogioco si impallava e io adesso quasi quasi io lo porto via sono cattivo cattivo sono cattivo cattivo si no niente computer cavolaccio eh bravo ci vuole la scoregia d'accompagnamento quando si fa anche pipì eh non c'è più pensa a chiamare qua perché non si può tenere sto coso puzzolente eh non ne frega niente ah va lì si siede odore preoccupante per forza dai vai non riesco chi è che chiama ogni giorno leggo notizie su di lei signor Rossi cerco di vivere la mia vita proprio come lei eh che culo eh non è meglio 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 da fare proprio per vivere come lui io che disperazione che disagio allora dai dai chiama ecco lamentati con il padrone di casa telefona anche tu perché questo qui non ha capito niente che lui deve prendere venire qua e riparare sto schifo ecco hai capito eh no non ho capito ah vabbè eh c'è quello da riparare va bene ma anche qua che c'è sto schifo qua verde cioè lei è rimasta praticamente pallida e assorta davanti a sta roba qua te lo devi preparare non è che si prepara da solo non ha capito mamma mia che dai dai e perché eh vabbè dove va eh vabbè sprechiamo roba tanto che chi se frega dai riprendi tu e continuano a sprecare roba da mangiare in una maniera indegna eh questa rimasta qua e puzza senti fai una cosa ripulisci qualcosa per favore aiutami tu altrimenti da qui non ne usciamo direi anche quello sì e dove va ma dove va allora lui dovrebbe andare al lavoro alle nove di sabato meno male tu invece eh vai a lavorare no quante domande quante storie tu mi raccomando però ti devi preparare sì non è inutile che cerchi computer perché non c'è più te l'ho tolto via io allora esercitati nelle scene romantiche fai una ricerca sull'emozione giocosa sviluppa la tua abilità di carisma eh tante cose da fare tutto in una giornata non ho detto di sviluppare la tua abilità di petomane però eh questa non è prevista eh allora iniziamo con questa va dai per favore lascia la scala tanto lei tra un po' dovrà andare a lavorare per cui così non le rompi più le palle dai vai vediamo appena iniziato Penny si trova a lavorare beh è chiaro ce l'ho mandata lavora solo vediamo se riesce a raggiungere una vediamo un po' com'è ah rendimento buono però deve arrivare qui proprio a un rendimento ottimo possa poter avere una promozione noi vediamo il rendimento è medio eh c'è questo problema faccio al 25% ancora mamma mia faccio al 25% faccio al 25% cosa vuoi? eh fa anche il pollo sì va bene paparazzo te pareva no ma tanto non è non è qui per te eh Marco stai tranquillo puoi stare tranquillo non è qui per te che tu ancora non vale un cacchio ancora al 50% mamma mia fare una ricerca sull'emozione giocosa e poi le relazioni scene romantiche da sola mi sembrano un po' ti compri una bambola gonfiabile ecco ecco il pollo si è buong ma si è giocosa non lo so come potremmo fare vediamo un po' se c'è qualche succedimento prova interazione buffa interazione buffa interazione buffa wow poma imbis miploi bajelja elfris yampara inar tananiwa lamejo kbha yabana bujing mua jing pando snrj quella sei andata proprio quando poteva servirci questo è fatto vediamo se magari guardando la tv guarda la tv senti lascia stare basta basta chiudi questo specchio tanto abbiamo capito che sei un idiota dai eh se lo accendi forse eh non sarebbe una cattiva idea guarda un canale comico vediamo si dà qua eh no dai cultura no dai non guardare cosa di cultura che tanto c'è per te la cultura lascia stare non 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 sforzare troppo il cervello vediamo vediamo non è iniziato è chiaro qua mi sa che dovrò aspettare che arrivi i penni perché è l'unica soluzione vediamo che ora dovrebbe arrivare lei eccellente eccellente un elemento eccellente che non è iniziato non è iniziato le luci della ribalta si stanno affievolendo mamma mia 2200 simole si è portato a casa orca pranzo ogni giri dai tanto per cambiare cosa di diverso mangia anche tu pranzo ogni giri ma si facciamoci un giro non mangio però tanto si stanno affievolendo qua l'unica è fare un'ottima recitazione ma perché che ti prepari da mangiare lascia stare senti vai a farti una doccia lascia stare lascia stare preparatelo tu e via ecco ci sono dato il cambio perché effettivamente era lei quella che aveva più fame di tutti bene io non ho capito questa storia perché mangiano in bagno fa proprio schifo è sta roba che mangiano non ho capito questa storia ma tanto quello ti riesce perfettamente qua benifibi Starnasi Guba Chassa Amkaharp Dolvis Sabo Manukum Biboa Quaskinaya Tenevim Fremig Shanishi Boral Pathanion Shunig Quas Uyibs Kunada Niumo Chi è questo qua? Eh vabbè E che c'è fredda? Ma vai al diavolo Adunda Walakoi Gorsha Tabar E Frabi Sebra Fanoiz Ah vanno giù A interpretare la scena Vediamo un po' Vediamo se così va bene Proviamo almeno questo Vediamo un po' Oh Oh Burl Yagedna vu Yibs Ah Ha Ah Ooh Dag Dag Ah Yanavi Shrar Fadish Fadish Genzima Ancora Ancora Che continua a telefonare Vabbè Yabbaplafu Bambufa 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 Smish Danubu Bambufa Bambufa Questo quanto meno è fatta al 50% Yabb Vannoush Ah Yibzy Dua Ho O Mm 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 ah però vale la pena continuare ah 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 Ehi, Damsa. Uh, Pfefferoo Walbish? Arpamoy? Bamba! Vanoosh. Ploofy. Bamba. Oh! Ancora! Chi è che continua a te? No, rifiuta l'offerta. Dai, lascia stare. No, rifiuta l'offerta. No, rifiuta l'offerta. Continuano a fagare. Dota Vep. Continuano, continuano adoressorti, che bello. No, rifiuta l'offerta. Dai, vai su anche tu. Dai, non è andata malaccia. Questa, l'emozione giocosa. Devo vedere che interazioni buffe devo fare. Ecco, bella. Questa sì che mi piace. Eh, c'era una volta un computer e ora non c'è più. Eh, però non c'è niente. Non succede niente. Non è iniziato. Va. Allora, prima che vada male sta roba. perché voi siete bravi anche in questo. No, ma perché ripulisci? Vai lì e te lo prepari. Ah, ripulisci. Neremo Crencos. Ah, bincapa. Unscatibs. Chi-la! Ahhhh... Ahhhh... Ahhhhh... Ahhhh... 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 Que... Mopsi... che schifezza ma tu non sei capace e fai solo danni poi ci lamentiamo degli scarafaggi dei topi di tutto per forza guarda che schifezza vuncioni maledetti ecco bravo rompi no dai vai a mangiare qualcosa te lo prepari bene e si stanca ma cosa c'è qua? relazioni oh boh mamma qua mamma qua a a a a a a a a a ecco ecco eccellente questa dorme ha un letto però dorme lì fai una cosa vai in bagno e fai anche la doccia per favore e poi te ne vai a dormire non mi pare stare dormire proprio là c'è un letto magari non è bello non è neanche comodo però è sempre meglio del divano tu cosa fai? vabbè dormi allora un è già andato a dormire effettivamente stanchissimo di questa giornata senza respiro vediamo l'altra adesso è finita questa doccia ci rimane manda anche lei a dormire ma perché ridi? ma perché ridi? ecco vai a dormire e con questa la puntata si conclude qui spero che e con questa la puntata si conclude qui spero che vi sia piaciuta mettete like commentate condividete attivate la campanella iscrivetevi e per tutto il resto ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao e buona Pasqua ciao 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 ciao